Ora puoi andare in questo territorio, nuovo Aleviatano, e quindi Ash ha rimesso a posto Aleviatano. Ah, siamo tornati a poter controllare il nostro veicolo, veivolo. Diamo un'occhiata se c'è qualcosa di nuovo. Abbiamo tre missioni di Tomage. Interessante, interessante. Volevo vedere se nella regione appena visitata avevamo modo di trovare qualche caccia ai mostri, mettiamo. Ma mi sembrava di aver praticamente fatto tutto qui. Ce ne renderemo conto? Invece no, abbiamo una caccia ai mostri proprio qui. Ottimo. Bene, la faremo subito. Perfetto, come al solito ho sbagliato la costituzione della squadra, proprio perché ero convinto questa volta di avere un altare invece non ce l'ho, quindi ho un sacco di esper di livello 1. Cercherò di farcelo ugualmente, eventualmente se avrò un wipe ricaricherò tutto e cercherò di farlo ugualmente. Allora, primo pool sono dei esper tiratori, degli Ixion. seguono poi dei simpatici dragoni, che ci stanno già facendo piuttosto male. Spero che arrivino cure. Spero che arrivino molte cure. Niente da fare, abbiamo perso tre esper. Vabbè. Proviamo ad andare avanti. Pidiamoci questo materiale e poi proseguiamo. Intanto alle nostre spalle arrivano dei budini. Ok, il materiale è stato raccolto, ora devo tornare sui miei passi, affrontare i budini e poi andare oltre. Tra l'altro mi sembra di vedere degli avversari che ci vengono incontro anche sul sentiero principale. Cavolo, stanno arrivando altre melme. Sarà un fil rouge fastidiosissimo. Vabbè, ok, attacchiamo anche queste. Cerchiamo di farle fuori il prima possibile perché sta arrivando un'altra. Vabbè, una sola. Una sola melma ci sta inseguendo dall'alto. Perfetto. Adesso andiamo a uccidere questi. Potrebbe non essere così complicata questa missione. Beh, qua c'è veramente tanta gente. I tre draghi sono veramente pesanti. Comunque, ce ne accorgeremo. Ok. Questi sono andati. Bene. Ah, dietro di noi arrivano già le melme. Ok. Temo che dovremmo rinunciare all'acquisizione dell'ultima parte di materiali perché sono veramente in fondo a quel corridoio. E qua ci sono veramente tante melme. Ci proverò comunque. Però temo di avere la peggio, soprattutto a caso del numero degli avversari, che non che potrebbero attaccarmi proprio mentre sto raccogliendo il materiale. Però vedo qui che siamo riusciti a isolare il primo gruppetto di melme. Ne abbiamo fatte fuori quattro. Ora vediamo se riusciamo a far fuori tre senza attirare l'attenzione dei draghi. Direi di sì. Attacco i draghi. Anzi, attacco questo drago. Perché ho visto che gli altri ci hanno visto dopo. No, però così abbiamo scatenato l'attacco combinato di tutti quanti, più le melme che ci inseguivano. Comunque, secondo drago è andato. Sta per andare anche il terzo. È andato anche il terzo. Vado sulle melme. Vado sulle melme quelle che sono dietro di noi, perché stanno attaccando i curatori. Sì, ce la siamo cavata. Arrivano le melme azzurre. Ok, adesso mi butto sul materiale. Questo materiale potrebbe essere anche la polvere di zombie, ma quella di qualità alta. Perché il tipo di giacimento è lo stesso. E siccome non possiamo tornare nel mondo delle illusioni, dobbiamo trovarne qui. Infatti, liquido verde no, non è vero. Speravo di trovare polvere di vampiro, per esempio. Invece hanno trovato del liquido verde. Beh, intanto eliminiamo questi ultimi nemici. Qui ci sarebbe un altro materiale. Qui. Andiamo a prenderlo. Ci siamo lasciati dietro un unico budino, più quelli che ci stanno vedendo incontro. Notare come Filo sta scavando con la sua tavola? Ok, adesso possiamo far fuori questi... anzi no. Faccio fuori questo e poi attendo gli altri. Ok, questo è andato. Faccio fuori tutti questi. Uccidere quel budino azzurro dovrebbe aver causato il non respawn delle altre melme, che quindi possono essere attaccate liberamente a quest'ultimo gruppetto, che quindi non respawneranno più e quindi mi basterà uccidere soltanto quest'ultimo gruppetto. Perfetto. Abbiamo due passaggi a livello 34. E abbiamo ottenuto qualcosina. Abbiamo ottenuto qualcosina. Ok, abbiamo una battaglia per l'invocazione e altre due missioni da fare nella montagna. Partirei con la prima, una rivolta annunciata. Le forze Egil si riuniscono ad Arda, l'isola colonna del cielo. Nonostante l'obiettivo sia l'invasione di Valis, al loro comando ci sono anche degli avviopirati. Come si spiega tutto ciò? Perché seguono il piano degli Egil? Una rivolta annunciata, l'andro degli Egil. Non vedo degli altari a disposizione. Van dice che succede perché gli avviopirati combattono al fianco dei gueriri Egil. Vi siete alleati con loro? Li usiamo proprio come gli Iari. Noi gli diamo l'auralite e loro si battono con noi. Tutto chiaro? E se qualcuno ha qualcosa in contrario se lo vedrà con me e anche con quello lì. Distruggi il cristallo vitale nemico. Ok. Beh, in queste battaglie però ci sono gli altari. Quindi io potrei anche sfruttare i miei Egil più potenti. Sì, abbiamo un altare. Lo vedo in alto. Ok. È qui con noi. Lo dobbiamo prendere però prima. Vedo che i nemici hanno quattro altari a disposizione. Sono veramente un botto. Comunque, cercheremo di fare del nostro meglio. Abbiamo con noi anche un Esper di rank 3 che andremo a evocare quanto prima per Vanna. Ok. Poi invochiamo il solito altro Carbancol. Invochiamo per filo lui e siamo a posto. Ci stanno iniziando ad attaccare da qui. Quindi andiamo a distruggere questi Diabolos. Sarà inutile sconfiggere gli avviopirati perché si ricreano al loro cristallo. Stessa cosa accadrà a noi. Potremo sempre recuperare i nostri leader morti aspettando semplicemente che si rigenerino dal cristallo. Arrivano altri nemici. Stavano cercando di prenderci l'altare ma li sto ricacciando. Ok. Li abbiamo ricacciati. a questo punto potrei anche inseguirli e muovermi in questa direzione. Attaccare questo gruppo e conquistare questo altare. Vediamo se ce la fa. Ok. Abbiamo subito qualche perdita ma nulla di trascendentale. Possiamo prenderci. Ah no. C'è ancora uno qua. Ok. Non c'è più però ci stanno attaccando. Quindi è meglio che reagiamo. Beh però siamo veramente troppo forti quindi non vedo come possano dire la loro. Ma posso anche attaccare questo. Facciamo fuori questi due carbancolo e poi ci prendiamo l'altare. E una volta preso l'altare possiamo dirigerci direttamente verso il cristallo che è proprio lì. Ok. Abbiamo preso l'altare e io mi dirigo dritto verso il cristallo. C'è solo una view pirata qua che potrebbe darci fastidio ma noi abbiamo veramente un'armata di tutto rispetto. La vittoria nostra è stata facilissima. Abbiamo preso un arco di artemide che è un'arma migliore direi per Fran e due oraliti. Gli Agile hanno i loro obiettivi. Si sa ma gli ovipirati sono ingiustificabili. Pur di avergli oraliti sono disposti ad attaccare perfino la propria terra. Prima si limitavano a rubarsele da soli. Chissà cosa sarà successo. Hanno perso l'anima. Ciò che gli Egi l'hanno ritrovato ora manca a loro. E si continua a combattere. risolto un problema ne salta fuori un altro. Allora faremo in modo che gli avipirati ritrovino la loro anima. risolto un altro.